Premio Forever MSM 2.62 se vince Luvre al comando Secondo all'esterno Mineiro S Terza di dentro Samba B In quarta posizione Silverado Lux Poi Pepe Vita avanti a Sheikko Impiegata a Luvre continua al comando Al suo esterno Mineiro S 13.3 per gli iniziali 200 metri Favorito al comando Ora scavalcato dal contro favorito Mineiro S paga 2.91 in caso di vittoria In terza posizione Samba B 20.96 La sua quota Tanto 27.9 il quarto iniziale Davanti alle tribune All'avanguardia Mineiro S Mineiro S in vantaggio In seconda posizione Luvre in terza Samba B In quarta Silverado Lux Poi Pepe Vita avanti a Sheikko 42.7 per il 600 Ritmo decisamente sostenuto Sul piede dell'undici e frazione Con Mineiro S che continua al comando In seconda posizione Sempre Luvre Fila indiana al paletto di metà corsa Passato in 58.4 Sempre in vantaggio Mineiro S In seconda posizione Luvre In terza Samba B In quarta Silverado Lux Poi Pepe Vita A precedere Sheikko Dopo il secondo quarto in 35 Il giro lo si passa in 12.9 Il giro lo si passa in 12.9 Mineiro S precede Luvre Mineiro S Luvre Poi Samba B Quindi Silverado Lux spostato in fuori Curva finale con Mineiro S Sempre al comando In seconda posizione Luvre Terzo in fuori Silverado Lux Che ha in scia Pepe Vita 1.26.9 per i 1.2 28.5 la terza frazione In ingresso indirittura Mineiro S Avanti Gli Aluvres Silverado Lux a centropista Poi Pepe Vita Gli ultimi 215 netti C'è lo scatto di Silverado Lux In recupero largo Anche Pepe Vita Silverado Lux E Pepe Vita In lotta Silverado Lux E Pepe Vita In lotta serrata Sin sul palo Poi Luvre e Sheikko Vicini per l'acquisizione Del terzo posto 14.1 Gli ultimi 2 29.1 Gli ultimi 4 1.56 netti Il tempo totale E la media al chilometro Di 1 12.5 Ci ha preso gusto Enrico Bellay Silverado Lux Per i colori Della scuderia Fast Horse Il training di Oliver Ellert E la guida appunto Di Enrico Bellay Enrico with compliments